Abbiamo presentato un progetto che riguarda l'automatizzazione dei processi aziendali, in particolare con riferimento alla fatturazione elettronica, che per noi è un argomento molto importante perché mette in gioco molti volumi di documenti. A oggi gestiamo circa 300.000 fatture all'anno emesse nei confronti di clienti e 200.000 fatture ricevute dai fornitori. Il progetto riguarda l'integrazione dello strumento aziendale gestionale con lo strumento di trasmissione della fattura elettronica verso il sistema di interscambio. Principalmente sulla parte fatturazione elettronica passiva ci siamo proposti, presso i nostri fornitori, come ente autorizzato a emettere le fatture per conto del fornitore. Quindi questo ci ha consentito di automatizzare tutti i processi aziendali che in qualche maniera vengono così resi automatizzati proprio perché la fattura la generiamo noi e quindi riusciamo a mettere all'interno della fattura tutti gli elementi già controllati affinché questa possa essere poi messa in pagamento senza ulteriori necessità di controlli e di verifiche che potrebbero fare perdere del tempo. Quindi il beneficio maggiore è automatizzazione dei processi e velocità dei pagamenti.